che aspettiamo che i primi ci raggiungano ci stiamo arrivando, ciao buonasera buonasera ai primi arrivati ce la farò ce la faranno i nostri eroi eccolo qua così posso vedere sempre anche le ciao ciao allora sempre ditemi se mi sentite sempre bisogno di questo feedback audio se tanto che taro le mie cosine così a distanza dovrebbe essere giusta perché poi devo farvi vedere i coltelli sì buonasera roberto fammi dimmi se mi stai sentendo ok tanto spostiamo un po di coltelli buonasera buonasera leonardo forte chiaro perfetto perfetto spostiamo un po di coltelli intanto che arrivano un po di voi tanto preparo tutto audio ok perfetto questo ci siamo bene 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 poi faremo anche l'interrogazione chi saprà dirmi ciao elvio buona serata ciao chi saprà dirmi quelli che noi comunemente chiamiamo come nel titolo carboniosi ma non è giusto perché tutti i coltelli sono carboniosi nel senso che l'acciaio l'acciaio è ferro e carbonio quindi tutti gli acciai devono avere per forza il carbonio cioè non sono acciai sono altri tipi altri tipi di metallo si sente ok perfetto grazie aria di bosco ciao buona serata anche a te buona serata buona serata ma è così duro 4 e sto spostando tanto i coltelli che dopo man mano che vi spiego ciao roberto ciao buona serata la serata si sempre tanti nel frattempo anche qualcuno mi aveva chiesto di spostarmi alle 21 però non la domenica perché la domenica poi ci sono le partite e so che molti di voi hanno piacere giustamente a vedersi le partite per cui non andrebbe bene quindi se dovessimo spostarci alle 21 dobbiamo cambiare serata quindi magari se mi commenti anche quando è finita la diretta quando avete voglia mi scrivete se vi va bene quest'ora se preferite spostare alle 21 e eventualmente al 21 di che giorno perché io non seguo sono un po un italiano tipico non seguo molto il calcio direi quasi per niente ciao roberto buona serata ciao alberto e quindi e non so perché la sera poi ci sono le coppe una sera c'è il recupero sabato la domenica per cui se vi fa più piacere che che facciamo la diretta alle 21 sono ben disposto a spostarmi alle 21 però bisogna sapere in che giorno siete più disponibili voi perché la diretta la faccio per voi è un plus a differenza della dei video tradizionali per poter appunto avere un terra un'interazione con voi e e quindi insomma fatemi sapere eventualmente nei commenti non adesso ma dopo che finita ciao ma non siamo in due non seguo per nulla il calcio ciao già e quindi nel non adesso perché dopo i commenti qua non riesco più a leggere una volta terminata la diretta ma una volta terminata la diretta nei commenti sotto se mi scrivete per piacere sì non mi va bene le 18 oppure no preferirei le 21 ma il mercoledì giovedì il venerdì il sabato e vediamo poi eventualmente di tirare la conclusione in settimana mi scuso sta settimana non sono riuscito a fare in tempo ma organizzato tutto per cui se tira a mano uscirà lo short e le prime dieci mail che arriveranno saranno i fortunati che parteciperanno a una diretta su zoom in cui ci vedremo viso viso e parleremo viso viso ovviamente ne farò altre perché voglio accontentare più gente possibile quindi la lista resterà attiva passati i primi dieci passerò ai secondi dieci alberto però me lo devi scrivere quando è finita la diretta per piacere perché questi commenti poi mi svaniscono e non riesco a prenderne nota perché devo guardarli con calma quindi alle 21 ok però che giorno visto che poi ci sono le partite venerdì si esce con la fidanzata col marito con la moglie il sabato gli amici non so tutte queste belle cosine qua che io da babbione seguo poco ma e quindi è giusto saperlo perché altrimenti facciamo la diretta a vuoto ciao armano ciao ciao alberto no 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 non scusarti va bene però me lo scrivete dopo finita la diretta quando è finita diretta quando poi torna online il video lì mi scrivete nei commenti così poi posso fare una cernita e vedere quanti sono a favore delle 21 quanti sono a favore di mantenerlo alle 18 e se invece ci spostiamo alle 21 qual è il giorno da preferire la sera da preferire visto che nelle altre sere ci sono vari impegni per cui è un po' da capire questo comunque sono le 18 quindi cominciamo a parlare dei nostri coltelli qua ne ho una selezione una selezione di coltelli carboniosi abbiamo detto perché i carboniosi vengono chiamati dagli appassionati così carboniosi perché sono diciamo così coltelli non inox è un termine improprio perché come dicevamo all'inizio i coltelli ciao marco i coltelli sono tutti carboniosi hanno tutti il carbonio perché l'acciaio è ferro e carbonio anche quello che viene chiamato acciaio dolce o ferro dolce quello che usano i fabbri per fare i cancelli è acciaio anche non è temprato ma è acciaio non esiste diciamo il ferro libero così da utilizzare è troppo morbido e comunque è difficile da trovare bisogna comprarlo appositamente quindi ferro e carbonio sono acciaio bene noi chiamiamo carboniosi i coltelli e hanno un nella lega dell'acciaio hanno a o non hanno o hanno pochissimo cromo sopra il 12 per cento di cromo gli acciai diventano inox inossidabili perché il cromo è crea un'ossidazione una passivazione che non risulta vista d'occhio perché è proprio colore della lama acciaio cioè il cromo a questo colore qua e quindi noi non vediamo la passivazione che lui produce producendo questa passivazione rende l'acciaio inox appunto inossidabile ma andiamo dalla percentuale mi pare di ricordare bene tra il 12 e 13 per cento di cromo in su sotto l'11 10 per cento di cromo ecco che l'acciaio non è più inox può avere più o meno resistenza all'ossidazione ma non è inossidabile poi ci sono alcuni acciai come l'u hc della roselli sapete che io mi sono costruito date vedere il video c'è nella nella playlist dei coltelli un con la lama di un grandfather in un hc che è un acciaio proprio dei primordi è stato fatto tutto uno studio da rosselli per arrivare a costruire lo stesso acciaio che usavano le truppe degli immortali mortali degli ortomani era questo reparto speciale che va a queste lame fortemente flessibili ma altamente taglienti ed erano fatte in questo acciaio la cui ricostruzione dei rosselli ha portato a creare questo hc che ha un alto contenuto di carbonio ma non ha nient'altro nella lega è ferro e carbonio è riuscito a creare quindi questo acciaio molto duro io la lama che io mi pare che sia oltre i 64 hrc e quindi esatto sarebbe più più corretto chiamarli basso legati i carboniosi ma li chiamiamo un po tra appassionati diciamo così in vulgata carboniosi proprio per differenziare dal linux dagli inossidabili però la differenza sostanziale è quella che stavamo dicendo poco contenuto di cromo o nullo contenuto di cromo differenza degli inox che hanno la 12 per cento in su il contenuto di cromo il cromo crea quella passivazione invisibile alla vista umana diciamo così non visibile alla vista umana perché il colore della lama che trasforma l'acciaio inattaccabile diciamo così dall'ossidazione ciò non è detto che la lunga non faccia la ruggine moltissimi inox poi con l'acqua di mare arrugginiscono abbastanza velocemente non sarebbe scusa non sarebbe più corretto chiamare i basso legati o alto legati in base ai percentuali componenti oltre il ferro e il carbonio presenti sì sarebbe più corretto che quello che dicevamo però pochi conoscono il termine basso legati o alto legati e in genere poi ma penso che sia da sempre nel mondo degli appassionati c'è stata questa mania di chiamare carboniosi appunto i basso legati e quindi è rimasto un po questo gergo di carboniosi allora è per quello che ricordavo in apertura che tutti gli acciai sono carboniosi hanno tutti il carbonio non hanno però magari il cromo o altri contenuti di cromo quindi non diventano inox allora perché questa sera parliamo degli acciai carboniosi dei coltelli carboniosi parliamo di coltelli carboniosi o basso legati per un semplice motivo perché sarebbe consigliabile a tutti consigliabile a tutti averne almeno uno o averne provato uno per un motivo di riferimento anche poi con gli inox non in inox o i non inox i carboniosi coltelli carboniosi a alto contenuto di carbonio o basso legati che dir si voglia hanno una caratteristica che li ha sempre differenziati fino all'arrivo poi degli acciai più moderni per sintetizzazioni acciai di polvere eccetera per una tenuta del filo maggiore degli acciai inox per una resistenza alla flessione maggiore degli acciai inox per una resistenza alle basse temperature maggiore degli acciai inox quindi diciamo che fino alla metallurgia la coltelleria più moderna degli anni 90 agli anni 2000 e via discorrendo il carbonioso era preferibile o il basso legato era preferibile e questo lo sanno bene gli americani che lo trattano li usano molto più degli italiani da una vita ma gli italiani in effetti comunque hanno una tradizione di carboniosi perché tenuta di filo più lunga resistenza all'abuso maggiore perché maggior flessibilità maggior resistenza all'abuso minore resistenza all'ossidazione tra una minore resistenza all'ossidazione che viene risolta con alcuni accorgimenti per cui basta tenerlo asciugato dopo l'utilizzo se lo si depone in un cassetto per lungo tempo se lo si stocca per lungo tempo basta oliare o ricoprire di grasso la lama poi andremo a parlare con che tipo di oli o di grassi e però anche con un altro vantaggio una maggior facilità di affidatura ovviamente dipende poi dal tipo di acciaio basso legato e dal tipo di trattamento ed è per quello che stasera parleremo delle diversità per vari tipi di acciai basso legati o carboniosi come impropriamente chiamiamo perché ci sono acciai basso legati che a me piacciono molto come 10 75 10 95 che se ben lavorati permettono una filatura veloce e semplice ed efficace con qualsiasi quasi qualsiasi strumento possiamo trovare a disposizione e quindi vanno molto bene da portarsi sul campo una tenuta medio buona del filo e invece acciai basso legati come il d2 soprattutto se ben trattato termicamente che sono però molto duri da filare molto duri da filare sono molto resistenti sono acciai che nascono per attrezzatura per attrezzi per cui acciai che hanno una resistenza all'usura pazzesca e sono considerati in genere il d2 lo sleipner semi inox anche se in realtà non sono semi inox perché hanno una più alta resistenza all'ossidazione una alta tenuta del filo però sono anche molto duri da affilare mantenendo però il fatto di non essere inox impropriamente difatti per esempio lo sleipner viene considerato un semi inox ma non esiste i semi inox chiamiamolo così in natura del coltelleria o è inox o non è inox allora al di là della percentuale di cromo che abbiamo detto sotto l'undici per cento è da considerarsi non inox sopra il 12 per cento è da considerarsi inox al di là della percentuale di cromo il basso legato si differenzia anche per il contenuto di carbonio che può essere anche più alto di un certo livello quindi ci sono delle lame che vengono proprio considerate non solo basso legate o carboniose come le chiamiamo impropriamente ma anche basso legate ad alto contenuto di carbonio generalmente questo alto contenuto di carbonio le rende più dure quindi con un buon trattamento termico come abbiamo detto prima l'u hc si raggiungono i 66 68 h rec che sono tantissima cosa proprio mantengono il filo molto lungo però hanno poi il rovescio della medaglia di essere molto duri da filare e possono essere poco flessibili e quindi con un certo tipo di abuso spezzarsi più facilmente di altri coltelli nel panorama della coltelleria ne troviamo molti da l'opinel con la lama carboniosa che hanno così basso legata a abbiamo detto agli esi ai tops dei coltelli americani in genere quasi tutte le marche americane fanno coltelli con lame carboniose perché da loro c'è una tradizione allora perché in italia no perché in italia dagli anni 70 vige una legge che poi è stata anche rafforzata o quella di non poter utilizzare per esempio i carboniosi in cucina e soprattutto se si lavora per il pubblico mentre una volta era tipico avere non solo i coltelli ma anche le forchette io che sono forse più babbione di di voi ho avuto occasione di utilizzare le forchette i coltelli carboniosi e non so se qualcuno di voi l'ha sperimentato poteva succedere volte se si aveva un'otturazione un dente otturato in argento in amalgama d'argento mettendo in bocca la forchetta si poteva percepire una piccola scossa un po quando si tocca con la lingua i due poli della della batteria no non so se l'avete mai trovato una volta era un metodo empirico per vedere se era carica una batteria quella 9 volt la stessa cosa si provava mettendo in bocca una forchetta un coltello tra virgolette chiamiamoli sempre carboniosi quindi basso legati ed era uso comune averli poi chi soprattutto nelle famiglie comuni le famiglie contadine le famiglie operai eccetera poi i borghesi potevano permettersi allora le prime i primi set di posate in acciaio inox che costavano però il doppio anche addirittura delle forchette e di coltelli in acciaio basso legato lo so è una cosa che oggi fa un po ridere però vi giuro che negli anni 60 e 70 era così tanto per dirvi come era non esisteva quella che noi comunemente chiamiamo plastica o pvc eccetera ma esisteva quella pezzi di plastica rosa che era la bachelite i primi primi cattini primi come possiamo chiamarle prime ciotole le prime cose di casalingo da utilizzare in pvc in plastica moderna erano era il moplen e non so se lo ricordate c'era un attore famoso che diceva è moplen cercate moplen su youtube e trovate le pubblicità quelli erano i primi io ero piccolino ma me le ricordo benissimo erano questo moplen era la prima plastica moderna che arrivava nelle case degli italiani lo stesso era per la posateria la posateria o si aveva d'argento o si aveva di acciaio basso legato e arrivò l'inox l'inox e l'inox però ricordo che quando si andava i matrimoni gli abbiamo regalato la posateria di acciaio inox perché allora era una cosa che valeva e costava parecchio oggi per fortuna è molto diffuso non è più così c'è da dire che però per i coltelli da cucina i coltelli carboniosi si usano invece ancora molto in tante nazioni tra cui il giappone sapete che i coltelli più famosi giapponesi per il sushi o per altri alimenti che non taglio proprio a rasoio sono in acciai carboniosi e ciao ermano ottimo argomento per fare un po di chiarezza ciao pier gasparini che piacere averti qua e e però in europa in italia non è più possibile a livello domestico sì quindi se avete piacere potete comprarvi trovate anche su amazon quelli americani che costano poco mi pare 30 20 30 euro coltello da cucina in acciaio basso legato e e questi li potete veramente affia cioè notate la differenza tra non so un sanelli da cucina inox e un carbonioso sia esso giapponese americano ma anche italiano se si trova dire la verità non ho mai guardato mi devo informare se c'è qualche coltello se qualcuno di voi lo sa basso legato ancora in vendita di marche italiane voi lo affilate e tagliate il cibo in cucina e vedrete che c'è una differenza sostanziale c'è una differenza sostanziale che oggi ci possono dare ciao roberto ci possono dare acciai di alto livello acciai sinterizzati acciai che abbiamo detto prima tipo le l max per citarne uno ma ne troviamo molti altri di questo genere che però a differenza dei basso legati o carboniosi come noi impropriamente chiamiamo sono più duri anche da filare sono più duri da fare diciamo così la filatura e quindi comportano un vantaggio che quello di essere comunque inox e di mantenere bene il filo o di poter tirare un filo molto affilato per scusatemi gioco di parole ma sono molto difficili da filare molto duri da filare ci vuole una mano esperta una routine esperto invece un basso legato un carbonioso per esempio questo è jg3 della easy voi lo affilate con un ciotolo piatto di lago o di fiume lo affilate con la pietra e vi perdona anche l'incapacità di essere dei bravi affilatori e taglia veramente tantissimo lo stesso possiamo parlare degli altri però ha lo svantaggio ovviamente di arruginire se lasciato bagnato alla velocità della luce e quindi va ben asciugato dopo l'utilizzo che il che non vuol dire che dovete stare lì col phon ad asciugarlo però basta passarlo con una pezza sui pantaloni sulla manica e non riporlo subito nel fodero perché altrimenti resta l'umidità allora andiamo avanti se non è chiaro questo discorso allora abbiamo detto carboniosi vuol dire basso legati più propriamente detti vuol dire che tutti gli acciai hanno il carbonio sia i non inox che vuol dire che i non inox hanno una percentuale di cromo inferiore all'11 per cento superiore il cromo al 12 per cento di contenuto di cromo nella lega con cui viene fatta la lama di un coltello diventa inox ciò vuol dire che il cromo fa una passivazione cioè fa un ossidazione trasparente alla vista perché è colore proprio del cromo del metallo e questo rende inattaccabile la lama dall'ossidazione il che non è che sia inattaccabile sempre è più difficilmente ossidabile deve essere chiaro questo fatto mentre poi ci sono anche le lame basso legate o gli acciai basso legati con altissimo contenuto di carbonio come vi ho detto prima scusate se ripeto ma vedo che sono entrate altre persone e allora è da chiarire bene il fatto altissimo contenuto di carbonio come l'u hc della rosselli che cercato di imitare le lame dei famosi immortali quelle truppe ottomane particolari che avevano queste lame lunghe taglientissime flessibili ciao mauro buonasera quindi questa è la differenza sostanziale che noi poi estimatori amatori collezionisti e utilizzatori chiamiamoci come vogliamo chiamiamo impropriamente coltelli carboniosi per differenziarli dagli inox la distinzione migliore sarebbe alto legati basso legati oppure inox e non inox e noi li chiamiamo carboniosi allora come dicevamo prima tra i carboniosi abbiamo varie distinzioni di coltelli ci sono di carboniosi che si avvicinano a essere quasi inossidabili perché la loro lega è comportata in una data maniera carboniosi che invece sono più ossidabili e però mantengono quella caratteristica che dicevamo prima di facilità di affilatura pur mantenendo bene il filo cioè il filo non si si mantiene affilato abbastanza bene però voglio dire si riaffila anche facilmente alcuni esempi per esempio come vi dicevo il mio preferito in questo caso è 10 95 perché si affila veramente con uno sputo tiene bene il filo però tende a ossidare abbastanza facilmente ed è il coltello è stato per anni più utilizzato partendo poi anche dai coltelli militari qua abbiamo un camillus della seconda guerra mondiale questo è la versione pilot che viene veniva fornita poi ai piloti questo dopo la seconda guerra mondiale scusatemi questo qua è stato prodotto dopo mentre il camillus quello lungo e diciamo quello che sembra quasi una baionetta mk1 mk2 eccetera sono quelli che venivano utilizzati durante la seconda guerra mondiale e sono in 10 95 altri coltelli in 10 95 li vediamo sono per esempio l'isi 4 e in questo caso per attenuare gli si ossidano un po più facilmente dei tops i tops però c'è da dire che gli fanno un trattamento termico criogenico questo li rende più compatti più resistenti all'ossidazione non so neanche come dirla in termini semplici un pochino più resistente all'ossidazione e lisi 4 io ne avevo uno senza copertura e si ossida anzi ne avevo due sia un 4 che un 3 si ossidavano a guardarli se li lasciavano inumiditi o bagnati però c'è da dire che mantengono un elasticità alta e si affilano facilissimamente e sono dei coltelli secondo me da non disdegnare poi se vi piace che siano un po tattici ecco crisi 3 e lisi 4 questo è il 3 è uno dei vari tre che ho sono anche bellini per chi ama un po il genere un altro ovviamente è l'isola in questo caso vedete che non l'ho passivato come il g3 che invece l'ho passivato io ho utilizzato la coca cola ma si può utilizzare l'aceto di vino scaldandolo un po io ho scaldato la coca cola solo perché il procedimento è più veloce e attacca un po di più mentre facendolo freddo ci impiega molto più tempo e attacca un po di meno però vi può succedere che la lama inizia a macchiarsi se voi per esempio pelate un kiwi o una mela tanto è vero che una volta quando c'erano poche medicine in commercio per chi aveva carenza di ferro veniva piantato un chiodo nella mela e si mangiava la mela che si creava acido ferrico e quindi era una maniera molto empirica di assimilare del ferro oggi ovviamente abbiamo la medicina moderna dall'allopatia si dice le medicine moderne e quindi possiamo prendere vedete la differenza questo adesso è graffiato perché utilizzandolo viene via un po la ovviamente la la copertura che si fa con la con la passivazione mentre questo è passivato naturalmente vedete che ombrato non è lucido non è lucido come questo notate la differenza ma ha tutte queste ombrature queste ombrature è la passivazione la passivazione che da anche quel senso di coltello usato non è negativa a tanti da fastidio lo vogliono lucido quindi continua a lucidarlo tirarla via ma è positiva perché impedisce rallenta l'ossidazione e quindi è più difficile che faccia anche addirittura le macchiette di ruggine ovviamente sempre asciugandolo dopo l'utilizzo però è una buona cosa che si passivi che voglio forzate la passivazione con si può fare in vari sistemi abbiamo detto l'aceto la coca cola la mostarda qualsiasi prodotto acido oppure ci sono anche degli acidi in ferramenta che vi aiutano a ottenere questa questa copertura scura quasi nera secondo del grado di passivazione che tenete vedete io l'ho fatto su tutta la superficie qua anche il manico tirando via le guancette e aiuta a preservare il basso legato carbonioso in questo caso da una tigiana anche a poste 20 si ossida solo guardarlo messo di fila in poco e da un taglio morbido che è uno spettacolo ed è quello che vi stavo dicendo perché ne parliamo ne parliamo perché in italia abbiamo un po' la mania dell'inox ma un po' si dice perché i carboniosi danno gusto al cibo ma è vero solo con alcuni la maggior parte i carboniosi non dà nessun sapore al cibo alcuni carboniosi possono lasciare quel gustino un po' ferroso un po' metallico su alcuni cibi acidi però una volta che si passivano che lo usate due tre volte non rilacciano più quel tipo di problema questo è un altro tops sempre in 1095 ecco la tops come vi dicevo si tende a ossidare un pochino meno loro danno che questa cosa dovuta a questo trattamento criogenico questo trattamento termico non so se questo sia vero o se il tipo di 1095 subisce un trattamento o ha dentro qualche elemento diverso da quello che usa le easy questo non lo so dire e vedete che anche questa lama essendo molto usata a piano piano ha passivato vedete si vede proprio tutte queste macchie più scure è la passivazione al che le permette di non ossidare guardate non c'è un filo di ruggine e questo vi posso garantire che l'ho usata nel bagnato nell'acqua nel lago è un po lappertutto eppure non è arrugginita certo l'ho sempre asciugata ecco un'altra cosa i vasso legati carboniosi se li tenete per del tempo nel cassetto non mettete lì nel fodero perché il fodero soprattutto questi in cuoio possono mantenere l'umidità o dei detriti che voi l'avete usato nel in uscita in outdoor in trekking al campo eccetera il campeggio poi lo mettete dentro si attacca all'interno del fodero un po di erba un po di qualcosa che poi macera e quindi questo potrebbe poi creare ruggine quindi una volta quello di ponete nel cassetto lo asciugate bene e tenetelo fuori dal fodero poi parleremo di cosa utilizzare il lo stesso in bocca a pucco un 10 95 anche questo vedete nell'utilizzo fra le altre cose in questi giorni l'ho utilizzato per fare il manico di un altro coltello che vedrete uno dei prossimi video un coltello che ha una storia molto antica che più che un coltello è considerato un attrezzo dalle sue genti che lo utilizzano in un ambiente molto freddo pensate che da loro in primavera ci sono meno 30 gradi questo è il tops bob ormai famosissimo fielcraft questo è in 10 95 qua vi faccio vedere come il anche questo l'ho utilizzato l'ho lucidato poi ma vedete che qua si ha fatto qualche macchiettina di ruggine qua invece ha iniziato a passivare vedete che qua è ancora unto perché ci metto un goccino di olio di vaselina olio di vaselina inologico così potete utilizzarlo anche per il cibo altrimenti va benissimo anche il famoso vd 40 ma non è molto salutare adesso so che la balistol fa un olio particolare che è anche commestibile per armi e per coltelli quindi anche quello può andare bene oppure l'olio di camellia perché sono oli che non degradano se usate l'olio d'oliva in acidisce vi fa più danno che difesa oppure potete usare quei grassi alimentari che trovate anche su amazon per macchine alimentari che sono grassi a tossici e quindi ne fate appena uno straterello sopra lo spalmate bene questo protegge dall'ossigeno e poi un panno di cotone asciutto e lo ripenete nel cassetto e potete lasciarlo lì e quasi dimenticarne ogni tanto però controllate ci sono poi abbiamo detto dei basso legati o chiamiamoli così acciai carboniosi che si avvicinano più all'inossidabile comunque sono più duri della 75 10 95 k 7 20 eccetera e ci avviciniamo a tra quelli più utilizzati in coltelleria che è il famoso d2 il d2 è un acciaio che nasce per attrezzatura agricola per attrezzi che devono sopportare un certo peso un certo sgravio e quindi è un acciaio molto resistente all'usura e al consumo questo è stato poi portato in coltelleria e con ottimi risultati e quindi adesso vediamo alcuni modelli con la lama in d2 per esempio questo coltello qua che abbiamo visto anche la settimana scorsa che scusa i panni a silicone ciao grazie a io preferisco il cotone cotone asciutto ma quindi anche dei panni vecchi di cotone degli strofinacci di cotone delle vecchie magliette di cotone tagli di delle pezze ripieghi poi anche metterlo così all'aria con solo la carta sotto il giornale perché sia carta carta non carta patinata e stavamo dicendo sì allora questo bench made per esempio la lama è in d2 sapete che questo è stato fatto stato ideato poi ovviamente venduto grande pubblico ma è stato ideato per un reparto dei ranger in quanto si berti il suo disegnatore e faceva parte dei ranger e un quando lo comprate una parte dell'acquisto una piccola piccolo obolo dell'acquisto va per le famiglie dei ranger statunitensi è stato fatto in d2 ovviamente ha una copertura in ceracote che lo difende dalla maggior parte dell'ossidazione tiene molto bene il filo è un coltello molto resistente robusto ha il solito difetto del d2 è duro da affilare questo vuol dire che impossibile no vuol dire che dovrete fare un po più di passate e dovete avere una pietra con qualche grana un po grosso oppure come la dc4 che una parte diamantata e quindi riesce a abbradere diciamo con facilità anche il d2 è duro il consiglio è quando andate su acciai più duri di non aspettare che il filo sia completamente compromesso ma ogni tanto di ravvivarlo o con una bacchetta in ceramica o con la pietra con qualche passata altro coltello in d2 per esempio sempre chiudibile e anche qua vedete che anche per i chiudibili sono utilizzati degli acciai basso legati quindi alto contenuto di carbonio è quello della wonder tactical questo è la prima versione della rica e vedete che nonostante ormai il ceracotte non c'è più ciao da tempo anche l'ho anche riprofilato nella fila lo vedete ho tirato via un pochino della della gobba della punta ed eccolo qua ed è passivato vedete e resiste molto bene al all'ossidazione direi non dico proprio come un inox ma ci andiamo abbastanza vicino sempre tenendolo asciutto ovviamente questo però comporta anche qua una certa fatica a riaffilarlo lo stesso lo stesso possiamo dire sempre della questo lama fissa sempre della wonder tactical questo è lince 2 1 che ormai l'ho consumato e questo è sempre il pane a silicone e questo anche questo di due vedete che sono tutti un po unti perché comunque anche se alla copertura c'era cotte io li metto sul filo perché non faccia l'ossidazione anche questo molto valido molto robusto resistente però è pochino più duro da filare ecco quello che vi dicevo prima è più resistente però all'ossidazione sicuramente del 1095 del 1075 anche il tra le altre cose poi il d2 come come 1095 abbassano anche il prezzo poi di produzione e quindi anche del prodotto finale questo è il mulling peak eccolo qua anche questo ha la lama in d2 ha un primo impatto visivo nessuno direbbe che un acciaio basso legato carbonioso no guardate non ha neanche un filo è usato meno degli altri ovviamente però non ha neanche un filo di passivazione anche questo ha i d2 essendo un coltello da taglio puro si affila un po più facilmente anche perché gli spessori sono inferiori e abbiamo un ottimo coltello resistente a un prezzo economicissimo siamo sui 40 euro c'è qualche metodo per eliminare quel cattivo odore di ossido ma allora metodo si c'è usarlo 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 poi dipende dalle lame ci sono alcune lame che purtroppo non te la cavi ma la maggior parte delle lame se le usi tanto non si arrugginiscono quanto va via il cattivo odore come dicevo prima anche cattivo sapore poi ce ne sono alcune come l'opinel con lama carboniosa alto contenuto di carbonio che è cattiva e basta cioè non riesce a passare quindi dipende anche da alcuni marchi alcuni marchi le trattano meglio forse alcuni meno non lo so ora il tipo di contenuto di acciaio che utilizzano a me piace tanto il kabar bk 18 no nemmeno un carbonioso penso che il primo sarà questo bene si abituatevi a prendere anche se siete amate di più linux perché vi serve da paragone e il miglior paragone sarebbe comprarsi un mk1 mk2 un kabar per capirsi e oppure se preferite perché è più piccolo eccetera compratevi un isola 2 un esi qualsiasi degli esi o della tops in 10 95 e utilizzateli utilizzateli riaffilatele provateli un po perché vi danno il metro di misura da quella da quell'utilizzo lì a poi man mano chiusa usate altri coltelli anche con acciai diversi e io ho trovato di due dell'aia nostri che facilmente si macchia di ruggine strano però può essere di fatti da lion steel usa preferibilmente il lo sleipener che non è altro poi che un di due modificato che è più facilmente affilabile è un acciaio proprio da lavoro di fatti molletta lo adora e lo stesso questo gear è fatto poi dalla sleipener per la casa americana scusate dalla lion steel per la casa americana ed è in sleipener lo stesso il sleipener sappiamo che è il cure lo stesso il sleipener è il mimas vedete che anche il mimas tende a avere inizia a opacizzare inizia avere delle macchie utilizzandolo inizia un pochino passivare però una passivazione più lenta di quella che ha il 10 95 cioè ci impiega di più è più resistente all'ossidazione ma anche alla passivazione quindi se vi piacciono i lame lucide tenendolo ogni volta che finite asciugandolo bene dandogli una passata se avete delle macchie importanti potete comprare la trovate anche su amazon lo dico se anche preferisco che andate al negozio locale perché dobbiamo aiutare l'economia locale dei nostri concittadini però trovate su ama e su amazon è la pasta iosso la pasta iosso vi aiuta a tirar via le macchie a tirar via anche se non è solo passivazione ma anche se è così ruggine per capirsi fogliadelli o questo è stato iniziato usare molto no p nel carmo solo per la frutta una certa il sapore si sentiva molto meno quasi per niente esattamente se anche l'opi nel è quello più difficilmente fa andar via il sapore allora per esempio una cosa che ho visto fare per tirar via in fretta al sapore con un carbonioso prendete il vostro easy il nostro top del vostro e sbucciate un po di mele e un po di kiwi quindi una li tira via il sapore l'altro lo fa passivare e poi lo risciacquate e quindi questo aiuta a tirar via un po il sapore ma sono poche le lame che lasciano sapore o lo lasciano i primi due tre giorni che lo usate perché sono io solo uso per le anime delle canne da fucile va bene anche per i coltelli ovviamente va sempre lavati puliti bene mi raccomando e sciacquati esatto questo stavo provando bene sì sì tu prova e riprova e vedrai che la lama poi pian piano non lascia più il sapore ripeto una volta quando io ero ragazzino erano un po tutti abituati perché proprio le posate erano tutti in acciaio basso legato non l'acciaio inox era un lusso costava di più costava di più e tutti i coltelli che si trovavano da anche le cesoie in campagna per portare le vigne i coltelli per calma a camerare le pattade quando ero io in sardegna nell'esercito poi negli anni 80 una una buona parte erano fatte ancora con lame basso legate quindi con acciaio diciamo così quello che noi chiamiamo carbonioso io forgiavo prevalentemente l'acciaio di due svedese e ritengo fosse molto resistente all'ossidazione dopo opportune oscillature acciaio eccezionale sì abbiamo appena detto che il di due come lo sleipner addirittura alcuni l'intestano l'anomea di semi inox ma in realtà il semi inox non esiste cioè o coltello è inox perché c'è una certa percentuale di cromo o non è inox nello sleipner come il di due in genere viene aggiunto una certa percentuale di cromo non troppa ma c'è e questo aiuta una resistenza all'ossidazione oltre come dici tu se la lama è lucida ovviamente si ossida meno che una lama ribattuta o per esempio quelle forgiate che fanno tanto rustico piacciono molto però sono più rubide e quindi ovviamente più difficilmente asciugabili negli interstizi ma guardate che più che l'acqua in sé che la vedete l'asciugato un attimo è la linfa le piante il cibo cioè qualcosa che resta appiccicato di appiccicoso sono queste cose qua che creano poi il punto di ruggine quindi una volta che terminate di usarli ma anche dopo qualche ora non è detto subito nell'imminenza lo sciacquate lo fregate un attimino poi lo asciugate bene e voi siete tranquilli il carbonioso a millenni che si utilizzano gli acciai non inox e sono sempre andati bedone circa 12% vedi 12% di cromo quindi è quasi inox se fosse al 13 o 14 sarebbe considerato un inox e quindi abbiamo potuto constatare che i famosi coltelli o acciai carboniosi ne abbiamo di varie caratteristiche ne abbiamo di vari modelli ce ne esistono veramente un futtio anche di tipi di acciai carboniosi perché per esempio k7 20 che abbiamo nominato prima c'è anche il k7 30 c'è anche il ci sono anche delle varianti lo stesso possiamo dire dal 10 10 75 10 90 che sono simili ma non sono uguali sono simili ma non sono uguali poi c'è la serie c c'è già ce ne sono tanti i nordici usano molto di più di noi popoli nordici europei gli acciai carboniosi basso legati per un servizio motivo per le temperature come abbiamo detto prima l'acciao inox è più fragile più duro e più fragile cioè anche di due voi mi direte più duro ma mantiene comunque una certa elasticità l'acciao carbonioso mantiene più elasticità che linux allora soprattutto nelle nelle zone fredde dove si va a meno 10 meno 20 meno 30 meno 40 gradi linux è meno indicato perché può spezzarsi più facilmente tanto è vero che abbiamo visto in queste in queste serate in cui parliamo appunto di coltelli che una delle delle ditte che produce coltelli poi anche per gli eserciti nord europei che la falc niven aveva risolto inizialmente con un acciaio a pacchetto o a hamburger chiamiamolo come vogliamo che è il sammai giapponese perché all'interno può avere una lastra anche di acciaio a carbonio volendo o di bg 10 e all'esterno a due acciai inox più tenere in 420 che è l'acciaio che si usa per le padelle per capirsi poco di più insomma dell'acciaio delle padelle più morbido in maniera da mantenere una buona tenuta di taglio di fila un buon taglio e allo stesso tempo avere delle elasticità anche le basse temperature quindi conoscere la storia anche di un coltello senso carbonioso basso legato alto legato inox è importante importante perché ci permette quando lo scegliamo quando lo compriamo di non dire come tanti che ho visto che hanno preso la f1 della falc niven è ma io lo uso nel deserto del sara e poi la gommina vicino al al tallone si fessura un pochino e lì si infiltra lo sporco il cibo e poi grazie a tira via la gomma e rifatti le guancette magari il legno o in gg 10 perché lui è fatto così perché quella gommina va bene nelle basse temperature con le temperature mediterranee se vai dove ci sono sempre quando hai 40 gradi in su quella gommina lì col troppo caldo cede quindi questo ci aiuta anche capire il perché del per come un coltello è stato fatto quali sono le sue caratteristiche eccetera mentre il carbonioso va benissimo dove ci sono bassissime temperature e anche dove ci sono altissime temperature proprio per le sue caratteristiche di maggior utilità e maleabilità all'altra cosa che viene fatto nei coltelli nordici proprio perché vengono utilizzati acciai meno moderni in genere quindi abbiamo detto acciai più tradizionali viene fatta la tempra differenziata cosa vuol dire questo può essere anche di aiuto nella scelta di un coltello prendiamo una lama un po più larga per capirsi è la parte vicino al filo viene temprata alti hrc ora so poniamo caso 61 62 hrc 58 59 hrc la parte da metà lama in su alta e quindi anche il dorso della lama viene temprato 40 45 hrc questa si chiama tempra differenziata e aiuta a ottenere un po quello che abbiamo siamo riusciti a ottenere col san mai cioè mantenere una buona parte della lama molto male molto elastica mentre solo dove ci interessa quindi la parte del filo è un pochino più alta perché ovviamente poi la lama si consumerà anche a filandolo eccetera ha una rigidità una rigidità maggiore quindi la possibilità di tenere bene il filo di essere ben affilato ecco che anche questo è uno degli escamotage un altro escamotage che si usava in tempi antichi quando non c'era linux era il famoso damasco che non era fatto così solo per una bellezza estetica ma veniva veniva unite caratteristiche di acciai diversi sebbene carboniosi proprio per ottenere un insieme di avere un insieme di caratteristiche che dessero coltello durezza tenuta del filo ma anche elasticità ed utilità e quindi la possibilità di essere utilizzato a tutto campo chiamiamolo così oggi questo problema con la metallurgia moderna non c'è più neanche di mono acciai e soprattutto poi con i nuovi acciai abbiamo detto sinterizzati acciai alto legati particolari acciai da polveri eccetera questo però non riguarda gli acciai basso legati che invece mantengono una tradizione sia come vengono costruiti fatti diciamo sia come vengono lavorati utilizzati questo però non è uno svantaggio ma io lo ritengo un vantaggio perché abbiamo se non anni decenni ma addirittura in alcuni casi secoli di esperienza sugli acciai basso legati molte aziende americane si sono votate negli ultimi anni anche loro a produrre alcuni inox vediamo la easy che ha fatto quella tra virgolette lasciatemi passare il termine schifezzuola del 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 degli esili ha rifatti in s35 ev temprati un po a come la viene viene i primi adesso va un po meglio trovi viene si spezzavano parecchi perché sono molto bravi a lavorare il basso legato carbonioso 1095 e molto meno bravi a lavorare acciai moderni come ls 35v però sempre più soprattutto al mercato europeo chiedeva acciai inox e quindi anche loro si sono buttati a fare anche una linea inox pur mantenendo la linea in 1095 il san mai di giapponese il damasco dei vichinghi pian piano distanze millenni stiamo arrivando alle stesse soluzioni sì sì stiamo arrivando alle stesse soluzioni un po più economiche un po più diverse un po più di produzione di massa perché bisogna sempre ricordarsi che alle epoche dei vichinghi dei giapponesi abbiamo detto un'altra volta no perché è è nata la lama tanto la lama tanto è nata non perché era una punta combat funzionale eccetera è nata perché se si spezzava una spada in realtà la spada poi la punta tanto era come questa che io ho rotondato era così perché si spezzava una spada ieri profilavano la punta si spezzava in punta perché loro usavano molto lo stocco e quindi era nata questa maniera di fare queste lame un po tanto un po tagliate no per recuperare per non perdere la spada che in realtà aveva una punta più a foglia come come le nostre europee e poi è nato il tanto moderno quello combat chiamiamolo così che lo so che ci sono tanti che lo amano appassionano a me sinceramente non mi attira niente lo trovo anche non moltissimo utile però c'è chi dice che utilissimo e e quindi rispetto l'opinione di tutti proprio perché le spade coltelli le cose le avevano solo persone che potevano avere grosse fonti di danaro perché costavano tantissimo e quindi è vero che c'erano questi prodotti di qualità ma venivano prodotti veramente pochi erano tanti numeri ma pochi numeri confronto una popolazione mondiale e quindi da grandi maestri da grandi esperti oggi a livello industriale riusciamo avere acciai che hanno le stesse caratteristiche a un costo abbordabile a chiunque e quindi questo è un vantaggio sicuramente non da poco penso di avervi detto un po tutto quello che è la base sugli acciai basso legati o quelli che noi chiamiamo carboniosi sulle differenze da linux sul fatto che appunto linux devono contenere da 12 per cento in su di cromo e quindi il cromo passiva e ossidando facendo questa passivazione protegge la lama è una passivazione nascosta perché è color dell'acciaio quindi non la vediamo perché io questo è uno slate penna e tanto per capirsi resta color dell'acciaio per cui noi non vediamo l'ossidazione che è la stessa cosa che però noi in questo caso vediamo che fa la passivazione sui carboniosi c'è questa passivazione qua scura e quindi si vede fa la stessa cosa dell'ossidazione del cromo c'è difende la lama l'acciaio sottostante dall'ossidazione quindi qua si vede nel nel linux non si vede e linux sono inossidabili ma non sono inossidabili indistruttibili il nio lox e non è inossidabile è come il d2 chiamiamola propriamente semi inox che non esiste però non è inossidabile è difficilmente ossidabile chiamiamolo così e quindi questi sono gli acciai basso legati allora volete provare veramente l'esperienza lo consiglio a tutti l'esperienza e quindi notare la differenza prendetevi un coltello in 1095 che sia delle io vi do queste due marche perché sono quelle che lo lavorano a mio parere a livello industriale un po mellino ma anche la condor fa qualche prodotto non proprio male prendetevi un easy un top un condor in 1095 usatelo riaffilatelo usatelo riaffilatelo quando avete capito un po come funziona iniziate a confrontarlo con i coltelli che avete a casa soprattutto con gli linux e vedete come va il nio lox ha il 12,7 per cento di cromo quindi si può considerare dal punto di vista numerico un linux però troverai molti esperti che non saranno d'accordo con questo è per quello che io non mi sbilancio più di tanto io ho un paio di lame in nio lox sono sincero non mi piace molto e non mi sono trovato bene ma anche lì è una questione poi di personale un po come i tipi di coltelli no ci piacciono alcuni tipi di coltelli piuttosto che altri e se no sarebbe un mondo monotono se non avessimo gusti diversi 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 ci sono dei tipi di acciai che io trovo più affini al mio modo di vedere o il mio modo di utilizzarli e altri tipi di acciai che li vedo un po meno affini per esempio il d2 non posso che parlarne bene ma è un acciaio che a me non piace moltissimo perché è molto duro da affilare perché io voglio avere la possibilità se sono sul campo di affilarlo come quando voglio con poche risorse di non dovermi portare dietro chissà cosa dopo mi porto dietro il d2 lo riaffilo con adc 4 che mi sta in tasca non mi accorgo neanche di averla dietro per carità di dio ripeto tutto si fa e tutto si può fare è semplicemente una preferenza personale io amo pur provando anche acciai come la helmax io amo profondamente due tipi di acciai e molti mi dicono che sono malato ed è forse hanno ragione uno è il 10 95 come vi ho ben dimostrato parecchie volte lo snapner mi piace molto anche però già più duretto da affilare però mi piace molto si affida abbastanza facilmente non è così duro come di due e l'altro è il vigi 10 e il sammai in vigi 10 in particolar modo che il vigi 10 è poco più di un 440 c però tiene discretamente bene il filo si affila facilmente e io è quanto richiedo a un coltello più di molte altre cose dopo c'ho la helmax o neolox ho un'infinità di tipi di acciai diversi e vabbè il 154 cm anche un buon acciaio più resistente ancora della del vigi 10 se ben lavorato vediamo cosa mi dice roba e non si convince nemmeno me neolox il di 2 ormai dopo anni il termine di paragone per la fatica di affilare mai top non è male anche il 10 95 della becker sì sì hai ragione sì 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 la becker poi ha fatto un sacco di collaborazioni anche con l'acca bar cioè con l'isì cioè ce ne sono parecchi il camillus e camillus non lo fanno più adesso ma l'ontario ecco l'ontario per esempio costa meno dell'isì e il prodotto praticamente è il suo fratello anzi inizialmente era lontario a fare gli esì i famosi rat 3 sono gli esì però costano quasi un terzo sicuramente di meno a volte li trovi anche alla metà online per cui c'è da volevo prenderlo lontario per fare un confronto magari appena mi è possibile procurarmene uno me lo procuro e facciamo un confronto adesso vi presenterò poi in settimana un coltello invece che ha una storia veramente una grande storia un coltello storico che usa tutt'oggi ontario ottimo esattamente sì sì ma poi perché allora se voi pensate che sia questo che la mk 1 e la mk 2 sono stati costruiti dalla camillus dalla cabar e dall'ontario quindi indipendentemente la linea di produzione era quella era solo che a seconda di chi vinceva l'appalto si giocavano la commessa poi si sotto appaltavano si aiutavano quindi il tipo di lavorazione è ben conosciuto da tutti loro ciao intonello peccato sei arrivato quasi alla fine che magari ci davi un'idea anche te però antonello puoi dirci tu che sei bravo e che vieni proprio da quella parte lì a me risulta che una volta anche i coltelli sardi avevano lame non inox ti risulta in che periodo poi si è cominciato a utilizzare l'inox per le lame po di tutte insomma dalla saleppa la patala patadese eccetera eccetera se se lo sai batti un colpo ma un po tutti anche i serramanico regionali una volta non erano in acciaio inox erano in acciaio basso legati quindi i famosi carboniosi di cui abbiamo parlato tutta sera bene allora vi ricordo le cose in settimana non è uscito però non vi ho visto molto attenti allora mario rossi amo lo z dp 189 ma non è per niente resistente la pressione può senza mai in piccole lame ecco perché non esiste il coltello definitivo ognuno ha proprio la destinazione d'uso certo certo verissimo anche questo difatti per lame molto grandi conviene un basso legato c'è un acciaio non inox che un acciaio inox che va meglio magari invece per i chiudibili perché tende dove ci sono i meccanismi eccetera essere meno facilmente ossidabile però ecco allora volete fare un esperimento quando avete la possibilità la voglia compratevi un 10 95 un coltello 10 95 è quello che vi piace usatelo affilatelo usatelo affilatelo e questa può essere una buona base di partenza per poi comprendere tutti gli altri coltelli tutti gli altri tipi di acciai che usate un po e per due motivi tiene discretamente bene il filo è facilmente riaffilabile vi permette qualche abuso e qualche chiamata virgolette sciocchezza e da questo vi fa da scuola per poi apprezzare o non apprezzare o capire le differenze di tutti gli altri acciai e di tutte le altre cose è una cosa secondo me che fa da scuola tutti quelli che mi chiedono in privato qualcuno che è venuto anche trovarmi eccetera poi poi mi dopo un po di tempo che li risento mi dicono ah caspita avevi ragione ho capito tante cose 10 95 prendetevi un prendetevi un isola 2 prendetevi quello che volete un easy 3 se vi piace di più perché più combat affilate lo usatelo sbucciate la mela vi tagliate la bistecca vi fate dopo lo riaffilate lo usate cioè prendeteci un po la mano vedete che sono acciai che vi danno soddisfazione e facili facili da filare che vi danno dei grandi risultati e da lì poi piano piano iniziato utilizzare acciai più duri acciai più inox cioè iniziate a capire veramente avete un termine il paragone eccezionale vediamo cosa mi dice antonello si erano carboniosi diventavano le lame nere fino agli anni 80 ora usano 4 20 gli acciai moderni che abbiamo oggi grazie antonello sì sì grazie antonello di fatti ricordavo bene ma un po tutti coltello addirittura anche in casa dicevo si usavano le posate carboniose tra virgolette erano basso legate e si sentiva a volte la scossa quando si mangiavano certi cibi e si aveva qualche turazione in argento in bocca bene spero di aver chiarito un pochino in maniera semplice perché sono comunque argomenti abbastanza difficili sia da raccontare da affrontare sia da assimilare quando parliamo di acciai è difficile perché bisognerebbe entrare nella metallurgia bisognerebbe entrare in tanti discorsi quindi cercando di rimanere comunque dare un'informazione in modo anche semplice ma pratico da poter poi notare nella pratica nell'utilizzo spero di essere stato sufficientemente chiaro vi ringrazio vi ringrazio di cuore di essere stati qua con me stasera e ci vediamo ovviamente per il momento ancora domenica prossima qua alle 18 nel frattempo quando sarà chiusa la diretta quando sarà chiusa la diretta e quindi poi tornerà visibile il video nei commenti sotto scrivetemi se vi va bene la domenica le 18 se volete che passiamo alle 21 non adesso perché non mi restano i commenti quindi non posso fare una valutazione dopo oppure farò posso fare anche il questionario però eventualmente scrivetemelo anche qua poi farò magari anche questionario nei post se volete che facciamo le 21 che giorno e ricordatevi che c'è chi ama il calcio chi ama al tennis chi ama questo chi ama quell'altra per cui trovare una sera dove siete un po tutti disponibili è veramente un azzardo per quello che poi era avevamo iniziato a fare la domenica alle 18 proprio su la maggioranza aveva stabilito che quella è l'orario il giorno in cui potevano essere più disponibili più di qualcuno ha iniziato a chiedermi alle 21 però non possiamo fare la domenica perché poi ci sono le partite al sabato non se ne parla al venerdì non se ne parla al mercoledì c'è la coppa poi non so se c'è il recupero quindi ci restano due lunedì martedì e forse giovedì ecco per cui se volete che passiamo alle 21 mi scrivete alle 21 vediamo se la maggioranza per le 21 se volete che rimaniamo alle 18 mi scrivete alle 18 se la maggioranza seglierà alle 21 cercate di mettermi anche il giorno che secondo voi è più favorevole e scusami paolo vediamo ciò ti avevo chiesto un parere su un coltello in vg 10 damasco sa mai un made non so la marca secondo te i vantaggi e gli svantaggi è perché non mi hai detto che modello è c'è il sa mai vuol dire tutto niente allora io a me sa mai piace molto io utilizzo molto e sa mai in vg 10 però è in linea massima quindi ti dico che prova lo vedi un po come ti trovi i vantaggi svantaggi vantaggio inox il vantaggio è che come avendo questo sandwich più morbido all'esterno più duro all'interno quindi ha delle caratteristiche simile anche quello che può lavorare un carbonioso quindi va molto bene per un uso a tutto campo e manico sia in legno non non è uno svantaggio se fatto bene anche perché oggi poi si fanno questi legni impregnati di resine stabilizzati per cui non è un problema quindi più di questo paolo bazzo non ti posso dire perché non conosco il modello cioè non mi neanche detto la marca il modello per cui non ti so dire più di questo oggi colpa della spesa mi sono perso quasi tutta la puntata me ma la puoi rivedere fra un po antonello mi spiace perché tu bisognerà che ci conta che ci sentiamo perché una bella lama se ben ricordo tu le fai vero la bella lama ecco e ecco dicevo per questa serata è tutto vi ringrazio ancora mi raccomando scrivetemi dopo quando tornerà perché di solito ci vuole un pochino la da youtube ci impiega un po perché la renderizza quando sarà disponibile scrivetemela poi farò un un quesito comunque nei post noi ci vediamo domenica prossima alle 18 nel frattempo in settimana ci sarà il contest quindi state attenti verrà fuori questo short un video short quindi sotto il minuto in cui vi indicherò semplicemente la email in cui mandarmi il vostro indirizzo email con la scritta voglio partecipare i primi 10 parteciperanno a una diretta con zoom quindi dove ci potremmo vedere parlare insieme e fare domande e risposte farò poi una seconda diretta per i secondi 10 cercherò di accontentare più gente possibile però faremo questo come estrena natalizia poi più avanti faremo un contest in cui dovrei riuscire anche a regalare qualche piccola lama vediamo ma stiamo preparando e quindi dopo scrivetemi questo dai ci vediamo la settimana prossima seguitemi in settimana perché uscirà anche un coltello secondo me di sicuro interesse un po strano ma di sicuro interesse per tutti ciao a tutti una buona serata una buona domenica e una buona cena a tutti ciao